Icaro è una giusta metafora per Van Gogh, perché lui è come se si fosse dedicato così tanto alla pittura, così tanto spinto verso l'assoluto, che come Icaro che ha puntato al sole e poi di fatto è caduto, e anche Van Gogh cade, perché è il prezzo che paga, lo sconto che paga per la sua dedizione di follia, ma è la sua dedizione e la sua passione che lo portano a toccare il limite. Per cui è una metafora che io amo moltissimo per Van Gogh.